Quali sono i migliori consigli per abbassare i trigliceridi? La ricerca medica sembra suggerire che l'abbassamento dei trigliceridi può essere cruciale nel ridurre il rischio di malattie cardiache. I cambiamenti nella dieta possono essere un elemento chiave nella riduzione dei trigliceridi. La maggior parte dei medici consiglia di ridurre l'assunzione di alcuni tipi di carboidrati, soprattutto i carboidrati che creano picchi eccessivi nei livelli di glucosio. In generale, questo include zuccheri trasformati usati per fare torte, biscotti e altri cibi eccessivamente dolci. L'esercizio fisico può anche avere un ruolo nell'abbassare i trigliceridi, poiché a volte può aiutare il corpo a metabolizzare lo zucchero. I trigliceridi sono depositi di grasso immagazzinate all'interno del corpo e alti livelli di trigliceridi possono formarsi a causa dell'eccessiva assunzione di carboidrati. Quando le persone consumano carboidrati, il corpo li metabolizza in glucosio. Il corpo usa ciò che richiede del glucosio, e quindi parte del glucosio rimasto viene immagazzinato nei muscoli. Se il corpo produce più glucosio di quanto i muscoli possano immagazzinare, il glucosio in eccesso si trasforma in grasso. Questo potrebbe essere il motivo per cui è chi soffre di obesità a spesso alti livelli di trigliceridi. La massa muscolare potrebbe essere un fattore determinante nel determinare una quantità sicura di assunzione di carboidrati. Generalmente, le persone che hanno più massa muscolare possono tollerare livelli molto più elevati di carboidrati perché hanno più tessuto muscolare per immagazzinare il glucosio in eccesso. Questa è probabilmente la ragione per cui molti medici raccomandano esercizi di bodybuilding per abbassare i trigliceridi e il colesterolo. Le persone che conducono uno stile di vita sedentario possono essere più a rischio per i trigliceridi alti e possono prendere in considerazione l'allenamento per la forza come parte della loro routine di allenamento. Alcune persone trovano più facile sviluppare un regime di allenamento per la forza iscrivendosi a palestre e programmi di allenamento con i pesi. Alcuni dei vantaggi di tali programmi includono la consulenza professionale e l'accesso a molti diversi tipi di attrezzature per allenamento con i pesi. Anche se l'abbonamento alla palestra può a volte essere costoso, gli studi di solito indicano che le persone che si allenano nelle palestre in genere ottengono risultati migliori rispetto a coloro che tentano di allenarsi con i pesi da soli. Questo può essere particolarmente vero per i principianti, che potrebbero non comprendere appieno il processo. In alcuni casi, i medici possono prescrivere farmaci per aiutare a ridurre i trigliceridi. Alcuni di questi farmaci includono stati defibrati. Le statine funzionano generalmente inibendo la produzione di glucosio e glicogeno. Il fegato produce glicogeno in risposta all'assunzione di carboidrati in eccesso e può essere responsabile della formazione di trigliceridi. Alcune ricerche sembrano indicare che consumare vitamina B, in una forma idrosolubile chiamata acido nicotinico, può anche aiutare a ridurre i trigliceridi.